Ciao ragazzi, bentrovati! Oggi voglio darvi un piccolo consiglio per imparare a visualizzare bene le mire e insegnare all'occhio come comportarsi nella fase di puntamento mira. Perché effettivamente magari non ci abbiamo mai pensato e qui mi rivolgo anche ai più navigati, ma provate a pensare alla quantità di informazioni, di immagini, che il nostro occhio passa al cervello che deve a sua volta elaborare prima di darle al sistema nervoso, muscolare, tutto quello che è. Quindi in questa fase qua è chiaro che se noi non andiamo a dare delle priorità, non andiamo ad insegnare all'occhio cosa ci serve, quali sono i riferimenti che ci servono, che dobbiamo andare a cercare, di default andrà a prendere e comunicherà al cervello quella che è l'immagine più lampante, più semplice, che non è detto sia quella che ci serve a noi. Proviamo a pensare a collimare tacca di mire e mirino su una sagoma piuttosto marrone, piuttosto che su una sagoma ostaggiata, piuttosto che su un farro blu, piuttosto che bianco, su uno sfondo neutro color bianco, piuttosto che su uno sfondo nero, piuttosto che su uno sfondo del terra pieno marrone o magari con un po' di erba, quindi verde. Tutte queste variabili vanno oltre a cambiare il perimetro nel quale andiamo a puntare e a inserire la tacca di mire e mirino, vanno a creare anche differenze nella maniera in cui riusciamo a visualizzare le mire e tutte queste informazioni se non le abbiamo lavorate a monte, in quell'attimo lì è difficilissimo riuscire a metterle a punto. Quindi cosa farà il nostro cervello? Farà la cosa più semplice, prenderà i riferimenti che è abituato a prendere e comunicherà con quelli. Bene, noi in questa fase invece dobbiamo andare a dare degli input diversi, cioè dobbiamo abituarci a vedere in diverse maniere come visualizziamo quei punti che servono a noi e insegnare pian piano al nostro cervello ad andare a cercare quei punti nell'immagine che arriva in quella frazione di secondo. Per quanto riguarda come si mira? L'altra volta ho fatto un video che magari vi metto nel link qua sopra, nella i che compare qui sopra, cliccate, vi si apre la tendina, cliccate sul video, andrà un attimo in pausa questo, lo salvate nei video da guardare, quindi dove c'è l'insegna dell'orologietto e poi tornate indietro a vedervi questo video qua. In quel video lì parliamo bene di come funziona una tacca di mira e mirino perché la fibra deve essere fatta in una maniera piuttosto che nell'altra eccetera, quindi non riprendiamo in mano l'argomento, lo vedete lì. Dobbiamo adesso imparare a contestualizzare quello che abbiamo detto nelle varie situazioni. Mi spiego meglio, anzi vediamo proprio come farlo. Bene, prendiamo quindi la nostra arma, io uso la mia barretta, scarica, ok, bene. Non abbiamo bisogno di cinturone, non dobbiamo fare niente, ci servono 5 minuti di tempo. Possiamo farlo più volte durante la settimana, non so, quando andiamo a pulire l'arma piuttosto che quando ci prepariamo per andare sul campo, sono 5 minuti importantissimi, quindi vi consiglio di farli bene. Come funziona? Io faccio così, è sufficiente prendere dei quadratini di nastro adesivo, quello di carta per capirci bianco, volendoci fate un puntino di riferimento, è giusto da avere un riferimento e magari andate ad attaccarli su uno sfondo bianco, che può essere il muro, su uno sfondo nero, che può essere un accessorio che avete su un mobile, sul mobile stesso, sul termosifone, su quello che avete in casa. Non serve a nessun particolare, è solo per cambiare lo sfondo. In questa fase qua, se avete qualche tipo track, se avete qualche sagometta miniatura, magari parzializzata, ostaggiata, male non fa, per riprendere un po' il colore, tutto qua. Ma, prendiamo la pistola, scarica, andiamo in puntamento su, io in questo caso lo sto facendo sul muro bianco, neutro, non dovrò scattare, mettetevi solo nella giusta posizione, quindi gambe, piedi, busto, braccia, tutto quanto, questa cosa qua la vedremo in un altro video dedicato, non adesso, comunque andate in puntamento e rimanete lì, rimanete lì 20 secondi, anche 30 secondi, ragazzi sono tantissimi, in quei 20-30 secondi però ci sono un sacco di cose da fare, quindi mettetevi in puntamento, cominciate ad allineare bene tacca di mira e mirino, cominciate a notare come vedete la foglia della tacca di mira, come vedete gli spigoli del mirino, come vedete la luce a destra e a sinistra del mirino, come vedete la fibra che è altezza, tutti questi dettagli, finché vi parlo, se avete la possibilità, provatelo e cominciate a notare quante cose state vedendo che prima o comunque durante l'azione di fuoco non è possibile vedere, ok? Fatto questo, chiudete un attimo gli occhi, andate a rivedere, cercate di ricreare quello che stavate vedendo, ok? Dopodiché andiamo su, esempio una sagoma, perfetto, cominciate a mettere a fuoco la sagoma, solo la sagoma, poi solo le mire, solo la sagoma, solo le mire, ma rimanete lì, diversi secondi e anche lì dovete notare cosa vedo della sagoma quando sono in puntamento, cosa non vedo della sagoma, torno sulle mire, ok, con uno sfondo diverso mi cambiano un po' i contrasti, quindi vediamo cosa c'è di diverso, tipo nel mio caso io adesso sto vedendo molto meglio il mirino rispetto a prima, nonostante sia su uno sfondo più scuro, non entriamo nel dettaglio, non interessa luce, mica luce, quando andremo a fuoco non abbiamo la possibilità di fare queste valutazioni, dobbiamo solo abituarci a trovare quei riferimenti che per me per dire sono gli angoli del mirino e gli angoli della bocca della tacca di mira. Fatto questo, su una sagoma, cominciamo a farlo sullo sfondo del mobile marrone scuro, ok, quindi anche lì stiamo lì 30 secondi a guardare cosa vediamo è differente, poi cominciamo a farlo contro luce, se abbiamo la possibilità di luce naturale, se no anche solo una lampada, giusto per vedere la sfocatura o comunque come cambia i contrasti, come cambia la nostra visuale e poi ritorniamo a farlo su una nostra sagoma. Cominciamo a mettere insieme tutto quello che abbiamo visto, fra un puntamento e l'altro, chiamiamolo così, prendetevi un attimino per chiudere gli occhi e ripassare, ricordarvi quello che avete visto, perché quello che vi ricorderete in questo momento sarà quello che vi ricorderete al campo, quindi questi 20 secondi sono importantissimi. Fatto questo cominciamo a passare alla fase 2, ovvero puntamento su una sagoma o su un riferimento che avete preso, ok, mi sposto e puntamento sull'altra. Non serve, qui non dobbiamo fare gara di niente, è solo per cominciare a mettere insieme due o tre tipi di visualizzazione diverse. Considerate che in realtà le visualizzazioni sono tantissime, perché basti pensare se andiamo a sparare a terra abbiamo la pistola più vicina, se spariamo con una mano tendiamo ad averlo un attimo più distante, insomma ci sono tantissime variabili e non possiamo riprodurle tutte, però già averne una decina, sfondo nero, sfondo bianco, carta parzializzata, un cerchio blu che può essere un ferro, un cerchio bianco che potrebbe essere il muro, eccetera eccetera, andate a riprodurre un po' la situazione, lo sfondo sul quale vi trovate a mirare e cominciamo ad abituarci a capire come vediamo le mire realmente. Questi dettagli non li vedrete mai finché sparate, perché state pensando ad altro e non dovete andare a cercare questo, perché deve farlo in automatico il cervello, ma lo fa se lo abituiamo a farlo, ok? Una volta che abbiamo fatto questi esercizi ci spostiamo di uno o due metri indietro, quello che possiamo, e li ripetiamo, vedrete che cambierà tutto, cioè se cominciate a mettere a fuoco la tacca di mira bene con il suo mirino, poi spostate le visualizzazioni sulla sagoma a cui state andando a sparare, poi cominciate a mixarle, vedete che dall'aria che avete a destra e sinistra del mirino la stessa sagoma sarà vista in maniera completamente diversa e allora anche quella è una cosa da allenare e cominciate a farlo su un po' tutte le sagome. Questo esercizio qua, ripeto, vi porta via 5 minuti è importantissimo, perché sul campo per imparare queste cose qua dovete sparare 300 volte prima di imparare questi 5 minuti che potete fare in bianco, quindi per quanto mio è molto importante. Detto questo, è utilissimo anche per qualcuno che me l'ha chiesto e sicuramente servirà un po' per saperlo un po' per tutti, nella fase in cui cominciamo a sparare con gli occhi aperti, se vogliamo cominciare a sparare con entrambi gli occhi aperti. Però attenzione, sparare con entrambi gli occhi aperti è sicuramente migliore, però va fatto con metodo, non è semplice il passaggio da un occhio a entrambi gli occhi aperti e sicuramente, almeno per come la vedo io, è controproducente nella prima fase se non viene affrontato con metodologia. Quindi non buttatevi a capofitto a provare a sparare con gli occhi aperti, visualizzate e imparate una cosa alla volta. Poi, nel momento in cui decidete di provare a passare a sparare con gli occhi aperti, magari vedremo in qualche video quelli che sono i miei consigli per aiutarvi in questa fase e se li apprezzate e avete voglia di provare, provate insomma anche questa questa novità. Bene ragazzi, ho terminato. Sono stato super lungo nella spiegazione, un sacco di parole, però sono molto molto contento di aver fatto questo video, perché intanto questo video è nato da una richiesta, una vostra richiesta. Quindi vi invito a commentare che così abbiamo lo spunto per fare altri video. E ancora di più vi invito ad iscrivervi qui sotto, qui non so dove sto puntando, ma qui sotto c'è il bannerino con scritto iscriviti, è gratis. Noi ci vediamo alla prossima, sarete così aggiornati quando usciranno i nuovi video e niente, vi auguro una buona giornata, ciao ragazzi!